Telo Giovedì 31 dicembre, San Silvestro Papa È l'ultimo giorno dell'anno Il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.38 La luna si leva alle 17.54 e tramonta alle 9.03 Dopo 9 giorni di malattia muore il doge Alvise IV Mocenigo all'età di 76 anni e dopo 13 di principato Viene sepolto nella tomba di famiglia ai Santissimi Giovanni e Paolo Le previsioni per domani Qualche nebbia fino all'alba sulla pianura e nelle valli prealpine Poi precipitazioni specie dal pomeriggio Sulla pianura si tratterà di piogge Eccetto qualche fiocco di neve A tratti su pedemontane e zone limitrofe fino al mattino Mentre sui monti nevicherà fino a tutto il fondo valle Temperature in aumento di notte e in calo di giorno Mentre sui monti neve Grazie mille